Bacoli, l'assessore Giuseppe Carannante che tra le sue cariche ha anche le politiche sociali. Quali sono le nuove iniziative del Comune in materia? Sì, allora, l'amministrazione è molto sensibile alle accresciute sofferenze socio-economiche della cittadinanza bagolese. In effetti si tratta di un contributo economico che viene dato a queste famiglie o persone indigenti di 100 euro mensili a partire dal mese di maggio fino a dicembre. E quali sono le modalità attraverso le quali verrà erogato questo contributo? Allora, innanzitutto i beneficiari sono i cittadini bagolesi che abbiano residenza da almeno un anno nel nostro territorio e verranno valutate le situazioni di bisogno dall'assistente sociale che di volta in volta, ogni tre mesi, dovrà accertare che lo stato di bisogno non cambi e potranno partecipare coloro i quali sono senza redditi o coloro i quali hanno un reddito al di sotto di un minimo vitale. E a chi si dovrebbero rivolgere questi cittadini indigenti se volessero beneficiare del contributo? Allora, la domanda va presentata ai servizi sociali tramite un'apposita scheda che abbiamo creato proprio per evitare problemi e verrà appunto valutata la situazione di bisogno, come dicevo prima, dall'assistente sociale. Ne approfitto comunque, dato che è la settimana di Pasqua, di augurare a tutti una serena Pasqua. Grazie a tutti.